per questo, è necessario che riporga le scuse per quello che è accaduto, però in un comune veramente dove si fa tutto in autogestione, certe volte queste situazioni si verificano e mi dispiace per il ritardo che sicuramente ha denneggiato l'andamento della manifestazione e porgo i saluti a tutti i relatori